Grazie a una delibera approvata dalla Giunta regionale è stato dato il Via Libera alla rimodulazione degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere previste nel programma di recupero urbano per Acilia e Dragona. Il finanziamento regionale per oltre 10 milioni di euro permetterà dunque di migliorare la qualità della vita dei cittadini di questo quadrante a sud di Roma, grazie alla realizzazione di un sottopassaggio tra Via Ostienza e Via del Mare ed un sovrapasso di collegamento con Dragona. Saranno inoltre realizzati parcheggio e piazza dalla stazione di Acilia Dragona, la manutenzione straordinaria di Via Macchia-Saponara e la realizzazione della scuola materna in Via Amato. Ai nostri microfoni il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Dopo 23 anni si sbloccano oltre 10 milioni di euro di interventi su Ostia, serviranno per la manutenzione delle strade, per i sottopassi, quindi viabilità per la scuola materna. Sono passati tanti anni eppure incredibilmente queste risorse figlie di una legge del 1993 erano rimaste nel cassetto. Ora grazie alla collaborazione con il prefetto Volpiani e con quel municipio che sappiamo essere stato al centro di tanta attenzione magari per cose non positive nell'ultimo anno, abbiamo fatto una rimodulazione degli interventi rispetto a quelli pensati 20 anni fa e diventeranno queste risorse opere pubbliche al servizio dei cittadini. Questo è il nostro modo di essere vicini ai cittadini di quel municipio che è stato al centro di tante cronache non per cose positive, ma che invece deve ora dimostrare una presenza positiva dello Stato e attiva dello Stato come è possibile essere. L'altro grande intervento è quello del dissesto idrogeologico. Su circa 67 milioni di progetti presentati nel progetto Italia Sicura, nel progetto del governo, oltre 40 investono ostia. Noi siamo pronti per partire per i cantieri, faccio un appello al governo a sbloccare queste risorse perché vorrebbe dire nel territorio raziale circa 70 milioni di interventi sul dissesto idrogeologico, ripeto di cui 40 in quell'area che come sapete sul dissesto idrogeologico è molto 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 esposta.